Ciao, mi chiamo Melissa Di Lorenzo, ho 21 anni e vengo da Civitella Roveto. Nella vita studio, frequento il secondo anno di Università di Scienze Motore all'Aquila, sono alta 1,71 m, seconda di seno e 42 di pantalone. Nella vita mi piacerebbe sia entrare nel mondo della moda, ma anche entrare a far parte dell'arma, in particolare nella polizia. Mi chiamo Marianella Villa, ho 26 anni, sono di origine venezuelana, nella vita faccio l'estetista, ho da poco finito di studiare alla scuola di estetica, taglie, 40 di pantaloni, quarta di seno. La mia passione è la danza, amo i balli caraibici, casualmente, il DNA c'è, quindi salsa baciata in merengue. Mi piace leggere, amo i bambini, amo gli animali, amo il mare. Ciao a tutti, sono Domenica Di Nicola, ho 34 anni, vengo da San Benedetto dei Marsi. Nella vita, in questo momento, mi sto rilassando e sono pronta con un nuovo progetto che cercherò di mettere in atto quest'inverno. Per quanto riguarda le mie passioni, sono una bodybuilding, faccio bikini fitness e una settimana fa ho concluso il campionato italiano assoluto di FBB. Allora, sono alta un metro e sessanta, peso 50 chili, porto di vita una 38, di seno una quarta, di scarpe un 37. Allora, mi chiamo Eleonora Di Battista, ho 18 anni, nella vita studio, a liceo artistico, e non ho hobby in particolare, a parte fare la modella, sfilate e foto, altezza 1,70, taglie S e una prima di reggiseno. Ho fatto una sfilata fino ad ora e qualche scatto. Mi chiamo Micaela Roman, ho 29 anni, originaria dalla Romania, vivo a Celano, di professione barista, come taglie 40 di pantalone, terza di seno, sperando che sia quella, che mi piacerebbe fare? L'avvocato. Ciao, mi chiamo Asia, ho 19 anni, vivo a Luco De Marzi, sono alta 1,67 m, ho i capelli porto di taglia, di fianchi 38-40, di seno una seconda terza, capelli lunghi castani, occhi verdi scuri, ho fatto book fotografici e sfilate di moda così varie, per negozi d'abbigliamento. Mi piacerebbe diventare hostessi di volo, per questo, sì, per questo viaggio, mi piace imparare nuove lingue. Nella moda fotomodella, o attrice, diciamo, questo è un sogno da quando sono piccola. A 14 anni volevo diventare carabiniere perché ho fatto per 15 anni judo. Allora, mi chiamo Silvia Preci, sono dell'Albania, e seno terza, e vita 36. Nella vita voglio fare la fotomodella, mi piace sfilare, ma siccome sono bassa, non sfido. E studio. E faccio il liceo classico. E in che età? 17. 17? Sì. E quest'anno, ad agosto. Allora, ciao, mi chiamo Maria, sono da Aia Cozzo, e studio allo scientifico privato, e porto una seconda scarsa di reggisena. Porto una 40 di pantaloni, e nella vita vorrei lavorarmi o in farmacia o in medicina. Cioè, sempre studiare all'università per poi andare a lavorare in una cosa simile. Nell'ambiente della moda vorrei fare scatti fotografici, e non ho esperienze ancora. Allora, sono Diana Panella, ho 30 anni, e vivo ad Avesano. Di seno ho una taglia terza, e 44 taglia di pantaloni. Nella vita sono 1,80 m, e nella vita ho fatto diverse esperienze in campo di moda, alcune sfilate in abiti da sposa, ho partecipato ad un concorso dove mi sono classificata quarta. Faccio la hostess e la promoter. Mi piacerebbe fare ulteriori esperienze nel campo della fotografia e della moda, quindi diversi book fotografici di diverso stile anche. Nella vita voglio insegnare, però non disdico altri lavori possibili. Insegnare maestra d'asilo oppure elementare. Ciao, sono Martina Tellone, vengo da Taglia Cozzo, ho 17 anni, sono alta 1,78 m, porto una prima di seno, ho la taglia 38, ho sfilato per la boutique Catrin Bidia Pezzano, la boutique San Severino di Taglia Cozzo, ho sfilato nel 2015 e nel 2016 per FM Airstylist di Avezzano, ho posato per il catalogo di abbiglieria di Avezzano, ho fatto la pubblicità del bar Pasticceria Olimpia, vorrei entrare a far parte di un'agenzia, poi appunto a fare l'indossatrice. Frequento il liceo artistico Vincenzo Bellisario, qua a Avezzano. Ciao, sono Claudia Maccarelli, ho 16 anni e vengo dall'Aquila, nella vita mi piace tantissimo ballare, anche cantare. Sono alta 1,70 m e la mia taglia è 38 e seno una seconda. Non ho avuto nessuna esperienza nella moda, ma mi piacerebbe tantissimo perché è un campo molto interessante e quindi mi piacerebbe tantissimo provarlo e quindi fare questa nuova esperienza. Ciao, mi chiamo Diana Prisco, ho 17 anni, sono alta 1,75 m, porto una seconda, una 42 di pantaloni, mi piacerebbe trovare un lavoro nel campo della moda, diventare una modella, faccio la studentessa nella scuola alberghiera dell'Aquila e oltre alla modella mi piacerebbe lavorare in un settore enogastronomico. Salve, mi chiamo Serena D'Ambrosio, ho 22 anni e vengo da Avezzano, in provincia dell'Aquila. Attualmente frequento la facoltà di filosofia e comunicazione e in futuro mi piacerebbe diventare una giornalista d'inchiesta. Nel campo della moda ho svolto diverse volte delle sfilate per abiti da sposa e non solo. La mia altezza è 1,70 m e le mie misure porto la taglia 42, seno la seconda porto. Nell'ambito della moda mi piacerebbe più che altro lavorare nel campo della pubblicità, fotomodella, sì esatto. Nella vita studio attualmente e ogni tanto mi do da fare con vari lavoretti come hostess e quant'altro. Allora, mi chiamo Alessia Pulsoni, ho 24 anni, vengo dall'Aquila, sono nata a Roma il 31 dicembre 1991. Nella vita faccio la commessa in una gioielleria, nella vita vorrei aprire un negozio tutto mio, di abbigliamento, possibilmente di accessori. Mi piace il campo della moda, nella moda ho lavorato come indossatrice, come fotomodella per alcune scuole di moda. Mi piacerebbe lavorare nel campo della moda, quindi continuare come indossatrice, come fotomodella in campi un pochino più impegnativi, più importanti. Sono alta 1,78 m, porto la taglia 40, diseno la seconda. Sono Marlene Capuzzi, 22 anni, vengo da Chieti e sono una studentessa, studio scienze infermieristiche e diciamo che è quello che vorrei fare nel futuro, l'infermiera, comunque tutto ciò che riguarda l'ambito sanitario mi piace. Niente, porto una taglia seconda, di pantaloni 36-38 e camerunese, non ho ancora avuto esperienze nella moda. Ma zio guarda là! Ma zio guarda là! Sono Vanessa Grossi, vengo dall'Aquila, ho 21 anni, sono alta 1,65 m, ho una prima di seno, una 38. Nella vita lavoro in pasticceria e da grande vorrei diventare un'organizzatrice di eventi. Ciao, mi chiamo Nina, ho 22 anni, sono di origine sociale ma vivo all'Aquila, circa dei anni dove frequento l'università, studio di prosinone, studio biologia, sono iscritta al terzo anno, porto una seconda di seno, una 38, sono alta 1,75 m e nel mondo della moda ho avuto come esperienza sempre a livello locale, ho fatto la fotomodella, l'indossatrice e ho anche posato per qualche catalogo sempre a livello locale. Nel mondo della moda mi piacerebbe tantissimo fare l'indossatrice e la fotomodella ma in realtà diciamo che in ambito lavorativo mi piacerebbe diventare un ricercatore scientifico.